Questo è il nostro paziente Antonello che è venuto a trattarsi in Moldavia, viene dalla Sardegna. Ci vuoi raccontare qualcosa? Allora, io mi trovo fatta il 22 di aprile e la mia permanenza qua a Mezzocco, a Chisinau, è stata del poco una cosa fantastica, è stato in aspetto. Dal trattamento, dall'accoglienza e dalla gente che ho incontrato e per le amicizie qua legate. Devo dire che mi farebbe da piangere quando mi sono visto con i 20 mesi dopo 25 anni di battaglia, fatte mentali, purtroppo non vogliamo giudicare o fare pubblicità a nessuno, però sono contentissimo. È difficile anche dare un'espressione o esprimere un parere perché è indescripibile, una gioia riacquistata, una sicurezza e proprio riacquistare fiducia e se stesso quel sorriso, quel lavoro che hanno fatto e tutto quanto. Io consiglierei apertamente a tutti coloro che vedranno questo video qua di venire qua perché avrete trattamento sicuramente sopra ogni standard che possiamo trovare in Europa. e vi troverete bene perché si vive in sece anche pure tranquillamente, c'è un bellissimo ambiente. Io comunque dalla mia esperienza dico questo, la mia esperienza è che non potevo desiderare di venire. Qua sono ordinato, oggi apre di nuovo un capitolo della mia vita, contentissimo del lavoro, contentissimo di coloro che mi hanno avuto in cura, che mi hanno assistito, che mi hanno preso in custodia, diciamo così, per andare in aeroporto e mi sono sentito già a mio agio dal primo giorno che sono venuto a qualche professore, contentissimo.